Andiamo come ogni settimana ad analizzare, esplorare la top 5 degli incassi statunitensi, per poi dare un'occhiata anche ai risultati globali, quindi riusciremo a capire se i film attualmente presenti in sala stanno ottenendo il riscontro più corretto, se sono dei successi oppure si stanno floppando in modo più o meno clamoroso, anche perché sapete che questi primi scampoli di estate non è che stiano portando grandi traguardi. Leggete nel titolo un fatto abbastanza eclatante, dopo tre settimane, perché siamo alla terza settimana di programmazione, Furiosa non è già più nella top 5, quindi oggi in linea di massima non dovremmo parlarne, ma io lo faccio perché si tratta di qualcosa di clamoroso. Dopo il calo del 60% nel secondo weekend, che di solito poi viene seguito da un ulteriore calo ma decisamente più piccolo, qui scendiamo invece ancora una volta del 61%. Quindi la traiettoria è stata questa, debutto in prima posizione, oltretutto un debutto molto smorto, alla seconda settimana terzo posto, alla terza settimana sesto posto. è stato veramente un crollo verticale, precipitoso e drammatico. Sappiate che, e lo ribadisco, siamo alla terza settimana perché questo dato deve entrare nelle nostre zucche, in totale, Furiosa ha incassato tutto il mondo, eh? 144 milioni di dollari per un budget di 160. e, già testate importanti, si sono espresse i piani per un ulteriore film, intitolato Wastelands, sono stati sostanzialmente abortiti. E allora questo è importante perché, quando c'è un film che piace, che piace soprattutto i cinefili, le discussioni relative agli incassi vengono viste come un tabù, come se una cosa negasse l'altra, come se un film è bello, e allora chi se ne frega di quanto porta a casa? E invece dovrebbe interessare a tutti, perché, dato che Furiosa sta andando male, un altro film della saga di Mad Max probabilmente non lo avremo. Quindi è per questo che ogni tanto serve cercare di capire se oltre alla qualità c'è anche la quantità, perché altrimenti la qualità non riesce a ottenere più sbocchi. Poi possiamo anche sederci e dire, va bene, ci basta così, siamo contenti solo con Furiosa, ci sto. Però non capisco perché in alcuni settori di internet si debba vivere questa discussione degli incassi come se fosse una roba da sciocchi, da stupidi, che non conta niente, che non si parla di cinema in questo modo. Sarà, intanto, continuando a vivere nel magico mondo dei fiori, dei prati e dei profumi soavi, non ci si rende conto che forse bisognerebbe andare in sala poi a vederle le cose, altrimenti finiscono, come sappiamo, ovvero in una bolla di fumo. Ed è un peccato, perché a me è Furiosa. Adesso non è che sia sto filmone, wow, uno dei migliori dell'anno. Per me no. Però è sicuramente di buon livello. È un bel film. Quindi non lo dico con piacere. Mi limito a constatare. Altra cosa che a volte va sottolineata. Dire delle cose analizzandole non significa che si è felici. Io non sono felice di questo, però sta il risultato che è lì da vedere. Caspita. E probabilmente è l'ultima volta in cui parleremo di Furiosa in questa sede. Perché? Cosa volete che vi dica? Più che continuare a fare la cronaca della tragedia, c'è poco spazio di manovra. Sì, probabilmente loro credevano che almeno in America sarebbero arrivati almeno ai 100 milioni in America. E non ce la faranno, ma neanche col binocolo. Esatto. In America sono a 58 milioni e 7 in questo momento. E se tanto mi dà tanto. Considera che nel multisala quello che io ho più vicino l'hanno tolto proprio all'inizio di questa settimana. Da me non c'è più. Da quanto capito il 25 giugno arriva già in digitale? Non in streaming sulle piattaforme, ma in digitale per acquisto o noleggio. Da quanto capito? È probabilmente. Beh, è l'unico modo in cui possono sperare di ricavarci un ulteriore guadagno. Perché anche per tentare un attimino di tamponare quello che effettivamente è stato un esborso dai davvero eccessivo partito da presupposti pessimi considerando anche gli incassi di Fury Road. È uscito forse probabilmente visti i presupposti anche fuori tempo massimo. Magari se lo avessero girato a distanza di un paio d'anni magari sull'onda di tutti i premi incassati da Fury Road potendo vantare sempre magari gli stessi attori con qualche trucco scenico con San Misteron ringiovanita. Insomma potendo attingere a qualunque cosa possibile per sfruttare quel poco di seguito che avevano ma è passato troppo tempo e come hai già detto tante volte qui hanno già detto tanti i tuoi ospiti in questa sede era proprio un era un progetto secondo me fallimentare in partenza ma consapevolmente fallimentare certo io credo che non si aspettassero un tracollo simile no 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 ma non posso creere mi dispiace io non riesco a credere che loro abbiano immaginato anche solo per un istante che potesse essere profittevole a mio avviso loro puntavano ad un cerchiamo di andare in pari perché se andiamo in pari comunque lo stiamo facendo per amore Miller per amore della saga per amore per il voler raccontare perché speriamo che poi nel tempo divenga un cult e magari ce la farà comunque come è successo ad altri grandissimi flop della storia del cinema ma purtroppo ripeto io quando a livello di progettazione prima di entrare anche in preproduzione l'idea è stata proposta io non riesco a credere che chiunque poi abbia tirato fuori i soldi abbia pensato ok ma anche pochissimo comunque un minimo proprio un 1-2% di guadagno ce l'avremo vero? non ci credo cioè non ci credo che comunque qualcuno abbia fatto questo ragionamento lo so che normalmente uno penserebbe ok ma le major non è che sono on-loss non è che lavorano no ma alle volte davvero considerando l'importanza di una data saga di un determinato tipo di autore regista queste piccole scommesse si fanno però tenendo in conto del eh vabbè dai al massimo rientriamo del budget e pazienza e io credo che l'idea non fosse al massimo rientriamo del budget credo che l'idea fosse proprio puntiamo a rientrare del budget cerchiamo di rientrare del budget punto fine anche perché oltre era folle pensarlo sai che invece non ne sono così convinto stavano già programmando un altro film ma quello sull'onda eh quello è l'effetto purtroppo è una sorta di di effetto Mandela cioè nel senso sulla base del fatto che si tratti di Mad Max che si tratti di Miller e che ci siano è un po' come quando si pensa l'esempio che anche qui molte volte è stato fatto no è il Blade Runner oggi Blade Runner oggi quello che rappresenta oggi e soprattutto quello che rappresenta oggi Ridley Scott a Ridley Scott affini anche un progetto fallimentare anche un'idea che tu sai vabbè raga ma non funzionerà sta cosa ok e allora e allora lo facciamo per amore del fatto che sia Ridley Scott però probabilmente ragazzi rientriamo nel budget ecco io credevo che il budget tu sei troppo tu sei troppo positivo nel senso che a volte si vive di abbagli collettivi anche dal lato della produzione lo dico perché adesso stiamo parlando di questo flop come di una roba sodata io invece mi ricordo che per almeno un mese barra due quando io il signor F facevamo la rubrica del box office e ci veniva chiesto ma come vedete furiosa quando cominciavamo a storcere il naso e dire eh c'erano tanti che ci davano dei pazzi ma come andrà benissimo è furiosa dopo Fury Road quindi tanti erano convinti che sarebbe andato divinamente questo film perché e allora faccio riferimento a un termine che hai usato tu si è creato un effetto Mandela cioè chi si ricordava che Fury Road fosse andato eh era stato un flop anche Fury Road anche quello quindi cosa ci si poteva aspettare poi per me Furiosa sarebbe scusate andato male ma non così tanto perché comunque questa è proprio una tragedia ma senza anche io pensavo sarebbe rientrato semplicemente del budget pazienza ecco non c'è modo di salvarsi su nessun fronte ah e ricordiamo che per rientrare del budget non intendo i 160 milioni tu intendivi il triplo no nemmeno il triplo in realtà pensavo al doppio e pensavo al doppio capito il per due che dice ragazzi rientriamo del budget cioè fine quindi pensavi 320 qualcosa di simile sì sui 300 che loro puntassero ai 300 come appunto Fury Road nel senso adesso è passato un bel po' di tempo ci mettiamo cerchiamo di fare non di più ma cerchiamo di puntare allo stesso risultato e invece no tra l'altro comunque mi sento di dire una cosa allora io l'ho recuperato molto tardi poi andiamo a vedere la top 5 se no ci allunghiamo troppo sì 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 scusa no l'ho recuperato volevo solo dire l'ho recuperato la settimana scorsa e mi sento di dire che per me questi 160 milioni per quello che è il film che è gli effetti quello che ti pare ma non sono giustificabili c'è un budget di 160 milioni per un film del genere per quanto mi riguarda tra l'altro laddove Miller ha sempre fatto insomma è un suo punto di forza un vanto del saper gestire budget ridotti per fornire comunque uno spettacolo notevole io questi 160 milioni non riesco a veramente a comprenderli ma proprio a nessun livello non sto dicendo che doveva essere un film da 20 milioni chiaramente ma per me farlo costare più di 100 milioni cioè non boh proprio sul serio anche per quello che ho visto resto estremamente perplesso però vabbè volevo leggere un commentino che mi ha fatto abbastanza ridere che è stravagante ma molto stravagante però leggo ma se Mad Max su Prime dopo anni è ancora pagamento perché dovrei andare a vedere furiosa così a scatola chiusa Mad Max Fury Road è un film uscito dal 2015 io credo che di modi per recuperarlo se interessati ce ne siano stati tanti oltretutto io sono andato a fare un controllino ed è incluso nell'abbonamento di Now ma fino a un po' di tempo fa era su più di una piattaforma tra l'altro comunque si si è gratuito se avete Now o Sky c'è gratis io non credo che stia floppando a livello internazionale perché mannaggia ma io Fury Road non l'ho visto e su Prime Video a pagamento non credo sia la causa principale posto che voglio fare un'altra ricerca a naso così su due piedi non penso sia il motivo per cui io mi vedo con questo pubblico che non vedrebbe l'ora di recarsi in sala per furiosa ma cazzo ma io Fury Road non l'ho visto e su Prime devo pagare no ma dico anche questo perché mi sono detto magari io non ho in questo posto che ripeto fino a un po' di tempo fa anche su un'altra piattaforma ma non mi ricordo quale se uno dicesse ok non ce l'ho però a noleggio in in ultra alta definizione 3,99 euro voglio dire voglio dire rinunciate a una birra o a una coca cola in un pub quello che vi pare per una settimana anzi la coca cola le patatine vi costerebbero di più 3,99 euro no nel senso se fosse tanta la voglia di recuperarsi Fury Road dico che comunque cioè anche a noleggio in ultra se lo volete in ultra alta definizione perché naturalmente che ne so se ve lo volete anche guardare in HD lo beccate magari anche a 2,99 euro però sai per dire voglio l'esperienza quella figa 4 euro ce li butto per dire che se fosse quello il problema insomma ma vabbè diciamo che i motivi sono tanti io questo non lo metterei nella lista personalmente non lo farei no 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 ma vediamo sta top 5 sta benedetta top 5 dannazione al quinto posto il regno del pianeta delle scimmie che zitto zitto i suoi 359 milioni a livello internazionale se li ha anche fatti festeggiamo quindi personalmente no visto che anche qui parliamo di un budget corposo e di un traguardo che per essere soddisfacente sarebbe dovuto essere nel novero dei 480 500 e secondo me il film non ci arriva poi magari la produzione ha fissato una sticella intermedia quindi vedendo come il box office internazionale stia andando abbastanza maluccio potrebbero anche accontentarsi accontentarsi però vedremo ai 400 deve comunque almeno arrivarci perché se no secondo me non ci riesce no no dico deve comunque arrivarci abbassando la sticella non è il per tre 400 non è il per tre ragazzi quindi se non arriva nemmeno ai 400 possono aver fissato la sticella dove vogliono ma ci fanno poco capisco che vedendo tutta la lista degli incassi 359 faccia dire ma sta andando alla grande ha un budget importante sì sì di 160 il marketing mi sembra che sia stato molto pervasivo è in realtà poi infatti 160 ma con il marketing che si è andato a vedere il real budget è un po' più di 160 milioni quindi ecco se non arriva ai 400 è proprio è un flop a prescindere quindi passiamo al quarto posto dove troviamo il debutto cinematografico di Isshana Night Shyamalan la figlia di M. Night Shyamalan qui c'è un piccolo mistero perché il budget non è stato comunicato questo perché a quanto pare si tratta di un film prodotto in maniera assolutamente indipendente direttamente da Shyamalan stesso che l'ha sovvenzionato permettendo alla figlia di esprimersi ma secondo me non sarà costato molto però c'è un dato interessante la Warner se non sbaglio per comprarlo e distribuirlo ha speso 30 milioni ok quindi si presume che loro almeno un centinaio di milioni volessero anche farlo beh sì dai 90 100 milioni invece debutta in quarta posizione con un incasso globale di 11 milioni e 7 beh comunque non è andato male come esordio 7 milioni negli Stati Uniti e gli analisti se ne aspettavano 10 e altri 4.7 sul mercato internazionale per un totale di quasi 12 io sono curioso al riguardo non l'ho visto ma sono curioso io probabilmente lo vedrò domani qui non conta il fatto che abbia o meno un altissimo budget se la distribuzione te lo compra per 30 si aspettano magari facciamo non 90 60 però loro forse veramente secondo me sai ha dato tipo un milioncino alla figlia io mi immagino proprio uno di quelli fatti secondo me più di un milioncino io alzerei ma io invece conoscendo Shaman secondo me dai un 2-3 milioni ma non di più poi magari mi sbaglio però secondo me magari loro sono contenti e chi l'ha comprato per distribuirlo è contento secondo me è proprio loro secondo me è contenta è viva mia figlia ce l'ha fatta in terza posizione If altro floppone che cerca un attimino di raggiungere risultati più rotondi siamo infatti a 160 milioni per un budget di 110 diciamo che rispetto alla situazione di 2-3 settimane fa qualcosina in più sono riusciti a guadagnarlo però mamma mia mamma mia per un film con Ryan Reynolds per tutta la famiglia con personaggi simpatici ceppucciosi mi sa che Krasinski fa meglio tornare all'horror a sensazione secondo posto per un successo finalmente è l'ora il film su Garfield ah sì 192 milioni per un budget di 60 è ufficialmente un successo da qualsiasi punto di vista tant'è vero che stanno mettendo in produzione il sequel ah vedi che zitto di attenzione perché il 2024 potrebbe segnare la rinascita dell'animazione in sala abbiamo già visto Kung Fu Panda 4 andare molto bene Garfield Movie nel suo piccolo è un successo Inside Out 2 secondo le previsioni dovrebbe fare il botto Oceania 2 il trailer più visto per un prodotto animato Disney e se volete proprio aggiungete anche Cattivissimo Me 4 e fatelo perché lì un'altra bella bombettina e proprio proprio lì dipende se lo considerate animato Mufasa attenzione al 2024 attenzione io sono contentissimo per Andrew Garfield che dopo The Amazing Spider-Man bravo bravo sono contento che si sia reinventato come gatto grande Andrew farò sempre il tifo per te questo biopic su di lui inaspettato che ama le lasagne andiamo al primo posto al primo posto Bad Boys Ride or Die io vi ricordo che per via delle circostanze il precedente capitolo Bad Boys For Life che è il terzo lì è un po' sbagliato il quarto doveva essere For Life e vabbè magari non pensavano di arrivare a farne un altro ma il terzo film nel 2020 è stato il maggiore incasso occidentale perché ovviamente poi i cinema hanno chiuso la serranda eh sì ma in una situazione di grande disagio comunque aveva fatto 426 milioni eh cavolo Tenet si era fermato a 365 così per dirvelo infatti ci si aspettava comunque grandi cose da questa nuova pellicola secondo me il risultato è un po' la Schrödinger vi bisogna aspettare le prossime settimane perché da un certo punto di vista è molto importante e positivo da un altro punto di vista bisogna capire sulla lunga distanza qual è la portata andiamo a vedere Bad Boys 4 apre negli Stati Uniti con 56 milioni da quanto non sentivate un numero simile all'esordio eh? tanta tanta roba se aggiungiamo il mercato internazionale siamo a 104 milioni e mezzo al debutto beh direi straottimo direi proprio di sì anche perché il budget era sotto i 100 milioni no? è di 100 infatti adesso ci arriviamo è di 100 milioni o un po' meno volete un altro fattore positivo? il celeberrimo voto del CinemaScore che è a meno cosa che lascerebbe supporre il diffondersi di un buon passaparola e quindi di una lunga coda perché io non sono ancora pronto a stappare lo champagne proprio per via del budget qui dobbiamo capire se questo film a 300 riesce ad arrivare perché al momento è a un terzo della sua strada e ha esordito peggio rispetto al precedente era andato meglio al debutto bad boys for life ma eravamo in tutt'altra situazione la pandemia ci sembrava una simpatica barzelletta eccetera quindi anche a livello di potere d'acquisto di usi e consumi del pubblico lo scenario era completamente diverso vero è che a livello internazionale come leggo in chat ha un'uscita a scaglioni infatti in Italia arriva questa settimana questo giovedì quindi possiamo contribuire con ulteriori emissioni di danaro sono un po' indeciso secondo me può farcela sto vedendo che alcuni siti addirittura a me danno 90 milioni di budget ok quindi siamo lì dai no no alcuni ne danno 100 alcuni ne danno 90 ma che siano 90 che siano 100 no perché stavo proprio facendo il calcolo secondo me vedendo i posti dove deva ancora uscire no vabbè anche pensando a un calo con a meno magari che ne so del 45 46% no pensando a una media sì secondo me nel giro di tre settimane quattro tre barra quattro settimane questo film può diventare tranquillamente profittevole facciamo quattro ci credo anch'io ci credo anch'io anche perché inizia l'estate gli americani vanno in sala l'arrivo di altri film di tipo diverso può aiutare nel senso che settimana prossima le famiglie vanno a vedere In Seed Out 2 magari il genitore si accorge che c'è anche Bad Boys e torna per i fatti suoi è anche perché esatto è una saga di vecchia data e dice ah ma un po' ma è uscito Bad Boys quello che guardavo quando ero ancora un ragazzo senza prole esatto si va a creare un circolo virtuoso sì dai sono positivo anch'io anche perché se non lo siamo in questo caso voglio dire all'esordio ho superato il budget di produzione ancora una volta da quanto non lo sentivamo bene così c'è da essere speranzosi mi dispiacerebbe se non riuscisse a raggiungere la linea del traguardo secondo me ce la fa anche proprio per il discorso che hai fatto perché nel bene nel male comunque parliamo di una saga ormai iniziata quasi 30 anni fa quindi veramente il padre di bambini X potrebbe dire oh porca miseria ma sai che Bad Boys è tipo il primo film che ho visto al cinema quando ero io ragazzino quando quindi ci sta tutto ci sta tutto il tornare per perché poi diventando una di quelle attività di famiglia potrebbe anche essere sì sì si crea anche la la cosiddetta legacy no ah ma sai che questo era un film che ho visto quando ero oh ti ci porto Brandon Carl andiamo a vedere ti porto a vedere Carl l'ho pensato solo perché ho pensato The Walking Dead ho pensato qual è uno dei bambini peggiori a livello seriale che mi è sempre stato sul gozzo e che non ho mai Carl e quindi ecco però no davvero mi immagino una roba del genere quindi dai dai speriamo speriamo ripeto non voglio metterci la mano sul fuoco da altre parti ho già visto sì sì striscioni un attimino settimana prossima in base a come andrà o tre minuti ci sentiamo al fatto che in effetti è il primo film da tanto tempo che il budget stimato quale che sia al primo weekend l'ha superato esatto era da tantissimo tempo che non succedeva quindi oh dai finalmente è indubbio che oggi il bicchiere sia sia mezzo pieno va bene va bene vuoi aggiungere qualcosa sulla base di questa classifica peculiare che sicuramente in realtà nelle prossime tre barra quattro settimane sarà interessante vedere gli esordi di altri film che stiamo attendendo e soprattutto come dici tu di quanto l'animazione fatta bene o che può richiamare davvero il grande pubblico possa cioè secondo me fungerà un po' da cartina torna sole sarà in grado di darci la misura di quanto al cinema possa di nuovo funzionare l'intrattenimento per famiglie canonico tra virgolette perché sì if lo era ma era comunque sia un film con persone in carne e ossa l'animazione per quanto sia sbagliato concettualmente però di solito era scrivibile davvero a mercato per famiglia non fosse altro perché pixar però a seconda di quanto andrà bene secondo me potremmo anche capire farci un'idea di come saranno nonostante si tratti di p diverse di come potrebbero andare i film futuri e in base a quello che succederà sapremo anche se a prescindere di nuovo da quanto bene potranno andare si tornerà ad arrivare per la prima volta da tanto 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 tempo al fatidico miliardo di un'idea di un'idea Grazie a tutti.